Due riflessioni e poi spremiamoli fino in fondo abbiamo pagato la sala ancora per 30 minuti quindi usiamoli, siamo a Milano non sprechiamo neanche due centesimi, condividiamo la battaglia principale poi ovviamente la possiamo coniugare, io sono convinto che l'Italia sia stata fatta entrare nel sistema euro pur non avendone alcun requisito per evitare la nascita di una padagna libera, nessuno mi toglie questa idea che abbiano forzato la mano per fotterci, poi siamo a novembre 2013 quindi è inutile andare indietro, mi auguro che giornate di controinformazione perché purtroppo da giornalista in un dibattito in un paese normale dibattiti come questi sarebbero da Vespa, inviterebbero due, non due contro perché ormai i contro sono gli altri, inviterebbero due numeri alla mano e due degli euristi e farebbero un bel dibattito e poi uno si fa le sue idee purtroppo si lavora sotterraneamente sul blog con convegni, con cose però anche la Lega è così quindi se ciascuno di voi diventa un moltiplicatore da domani su internet, fuori, io non li sapevo questi numeri, a me hanno fatto la testa così che il problema era il debito pubblico, stavamo morendo di debito pubblico, siamo i più spendacioni, siamo i più brutti e cattivi, spendiamo molto meno di altri, poi probabilmente altri spendono meglio però che il problema che ci abbiano montato la testa con altro, due o tre domande secche, scomode però appunto avete ragione, però quindi cosa si fa? Si esce, si discute, si rottama, domani corro, anzi domani no che è domenica, lunedì corro in banca, gli consegno il banco ma ti ritiro tutto, chiudo il piano di accumulo pensionistico, mi compro subito un Audi perché poi altrimenti mi costa il triplo, quindi mi invito a fare domande, venite qua però per favore le domande, 30 secondi e non interventi, facciamo siccome siamo autogestiti, no aspetta, c'è il microfono, allora in fila indiana qua come alla posta, dietro e visto che siamo in Italia come in posta l'ultimo in fila poi cerca di scavalare la fila e di arrivare davanti, ne prendiamo 6 o 7 perché altrimenti poi diamo 30 secondi a testa per la domanda. Io sono molto sintetico, allora io ho letto il libro di Bagnai più di un anno fa, lo conosco, vi seguo benissimo, vi conosco tutti e vi ammiro tantissimo. Io volevo fare una domanda alla Lega nel senso che c'è un partito in Italia che è stato il primo partito alle le elezioni scorse, il momento 5 stelle, però alle prossime elezioni andrà a zero sicuramente perché ha fatto 6 al supernallotto e ha perso la schedina. La domanda è molto semplice, allora io sento che nella Lega c'è solo Matteo Salvini, mi sembra che è per uscire dall'euro perché come dicevate tutti bene, adesso il problema principale è l'euro perché è una casa incendiata e l'incendio e il fuoco presentato dall'euro. Io voglio sapere ma la posizione ufficiale della Lega non è come quel momento 5 stelle che in campagna elettorale l'euro sì, l'euro no, forse facciamo il referendum non si sa e poi si prende un po' di voti e poi quando si è preso il 20% dei voti si va in Parlamento e dell'euro tabù non se ne parla più? No perché io ammiro tantissimo te Matteo e ti auguro sinceramente che tu possa diventare il nuovo segretario della Lega perché mi piace Matteo perché ha avuto il coraggio, però io dentro la Lega non sento nessun altro oltre te. Non è vero, c'è Mario Borghezio, c'è Lorenzo Fontana, c'è il segretario attuale Roberto Maroni che oggi ha twittato ringraziando voi che siete qua presenti per il No Euro Day, abbiamo la fortuna di avere un congresso, promese con le tessere vere e non con le tessere false perché quella è una prerogativa che lasciamo ad altri e quindi il congresso penso che deciderà nell'ottica del qual è l'emergenza, la mia proposta sarà ma penso che sia ampiamente condivisa e condivisibile indipendenza sia da Roma che da Bruxelles, i due binari che dicevo prima, senza mezze misure. Poi è chiaro che abbiamo tre governatori che governano Lombardia, Piemonte e Veneto che si trovano a lavorare, a ragionare di impresa con la Svizzera, con la Baviera, con la Slovenia, con la Carinzia, però loro amministrano e governano. La Lega dal mio punto di vista fa la Lega e la Lega da 15 anni aveva detto e dice a maggior ragione adesso che questa Europa non è la nostra Europa e questo Euro non è la nostra moneta. Quindi su questo la Lega parla è una sola lingua, non abbiamo per il Movimento 5 Stelle problemi loro, non mi tocca. Han detto troppe cose e troppo diversamente.